Siamo arrivati fino qui, quindi per noi è già un successo, i bambini sono di quarta, quindi siamo soddisfattissime di essere arrivati qui e dare la possibilità di fare questa esperienza a contatto con altre scuole e con altri bambini. Poi va bene, va bene, perché comunque l'importante è che loro si divertano e che imparino in un modo diverso a fare matematica, che è sempre stata un po' la bestia nera di tutte le materie. Invece in questo modo si divertono, giocando si divertono e il programma viene fatto tranquillamente. Anzi, ho dovuto anticipare tantissime cose che erano un programma per la quinta, le ho dovute anticipare perché il concetto di parentesi l'ho dovuto anticipare, di area che la dovrevo fare poi verso la fine l'ho dovuto anticipare e quindi in qualche modo mi ha dato lo stimolo a essere più veloce nel mio programma e in una maniera diversa, strategicamente e didatticamente diversa.